ma che roba ma quanti ai teri saranno a sta tempo? è tutto vero quello che si dice in giro del fondo per l'aschia partiamo da un minimo di 500 500 mila ma sì ma non si può ristrutturare senti amore io il regalo lo faccio volentieri a te sei la cosa più bella che mi è capitata sono incinta i soldi da una decisora non so se ce la faccio non vederti più ma chi ha detto che non dobbiamo più vederci? io lo pensi a se si venisse a sapere guidando il tuo fuoristrada hai messo sotto un povero Cristo che beguai non sono stato io come glielo devo dire? ma cosa ti ricordi? hai capito una cosa ha combinato questo impeccato? non ci venga quali sono oggi quando le cose diventano pericolose sparisci nel tuo saltero di lusso sulla coppia ho messo i 700 mila sul fondo di me allora chi l'ha portata sta venerdata macchina? avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto abbiamo vinto ci sei anche tu amore che ci sei anche tu amore